siete accusato d'aver ferito con arma da punta e taglio all'addome il nominato natale fraschinella confessate certo la cosa bisogna ragionare il fatto eccellenza si sviluppò della seguente stavo bruciando un cerchio di cinque soldi quando fu investito da angelina usate che c'è lì con eccellenza io sognore caro coscienza è già fuori al regno noi potremmo sapere sempre ci vorreste un ceppiti mi avvicino al luogo emanatore dei grigi sclopo quei doni che si immaginavano di tanto ha detto precisamente così testualmente non ho fatto che c'è due alla lettera bravo tutto santo e benedetto un signore ci ho buttato ma chi è qui ha toccato il cristiano? si si c'è la città vai qui per il concorso o per raccomandazioni? è secondo te come già io? la porta? no! la finestra? no! per raccomandazioni? a picchio come già io! no! 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 ma sei chi si Grazie a tutti.